La sfida delle reti fra valori identitari e specializzazione, invito a salire sul palco i partecipanti che animeranno questo confronto, Dario Castiglia, presidente di Remax, Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti che rivedo con piacere peraltro, Roberto Gigio, presidente di Coldwell Banker Italy e Maria Laura Tresolvi, Head of Team Digital di Frim, a moderare Gerardo Paterna, a cui lascio il palco e buon lavoro, grazie. Bene, ben arrivato, ben arrivato, ben arrivato. Avete segnato l'abbondanza, decidete voi, microfoni in quantità, quindi non c'è problema. Dai, bene. Allora, io ho un piano personale che è quello di rendermi edizione su edizione sempre meno, anzi, di rendermi inutile, ecco, e quindi far lavorare gli altri, però la tavola delle reti tradizionalmente è quella che mi spetta, a cui sono affezionato, quindi mi sopporterete in questo breve confronto e poi verso la fine della giornata l'invito a restare presenti, ecco, perché avremo un confronto interessante, scopriremo chi sono i fantastici quattro di questa edizione di Sinergie, quindi quattro agenti immobiliari con quattro caratteristiche che, secondo me, hanno molto da raccontarci, poi non c'è migliore insegnamento del buon esempio e quindi sarà interessante arrivare fino in fondo, ecco, sarete stanchi ma ci divertiremo sicuramente. Allora, tavola rotonda, la premessa è quella, in un mercato dove c'è spazio per tutto, l'identità, i valori aziendali, la specializzazione sono quegli aspetti che fanno la differenza nella scelta da parte del potenziale affiliato. Qual è la sensibilità su questo tema da parte delle reti immobiliari? E quindi partiamo con questa breve carmessa. Silvia Spronelli, come la specializzazione? Ecco, vi ha aiutato a crescere e quindi nell'affermarmi come player dedicato in discusso della locazione sul mercato. Sì, ecco. Quando ho lanciato Sola Fitti, che ormai sono 25 anni, quel solo veniva visto da molte persone, da molti operatori del settore, come una limitazione, come un freno alle proprie opportunità operative. In realtà, quel solo che racchiude la nostra scelta di specializzarsi in un settore specifico è stata la chiave del nostro successo. 25 anni fa, diciamo che oggi la specializzazione è riconosciuta, sono molti a affermare la forza e la potenza di essere specialisti. Diciamo che va anche un po' di moda. 25 anni fa, invece, eri considerato e ti consideravi al top se sapevi fare un po' di tutto, non andare di moda era più la tutologia. Oggi non ci si fida più di chi sa far tutto, perché se tu sai fare tutto, anche io posso fare tutto e quindi non c'è ragione per la quale devo far qualcosa a te se posso farla anch'io. E oggi è interessante, invece, proprio la specializzazione, perché ti dà quella posizione di merito, di esperienza, che ti fa parlare con le persone e ti metti in condizione di dare suggerimenti e anche di guidare le persone. E quindi oggi il nostro riconoscimento come rete sul mercato specialista è data proprio dall'aver creduto per primi in questa specializzazione. Una specializzazione che sta spronato non solo però ad essere i più preparati e i più competenti in materia di locazione, ma che sta anche alla base di tutte quelle che sono state le nostre scelte strategiche che ci hanno permesso in questi anni anche di crescere e di affermarci. Una fra le scelte sicuramente più importanti, che è quella della sicurezza, nasce proprio dalla specializzazione, perché essere specialisti significa conoscere molto bene i bisogni dei tuoi clienti, significa conoscere le criticità, le paure che non li fanno dormire la notte e quindi anche trovare delle soluzioni e la soluzione che abbiamo voluto trovare è stata quella proprio di risolvere definitivamente il problema della morosità. Abbiamo affiancato al concetto di specializzazione anche quello di tutela dell'affitto con delle garanzie via via sempre più solide, fino a diventare anche gli inquilini finanziari proprio del proprietario di casa, perché con la soluzione solo affitti pay oggi diventiamo gli inquilini finanziari del proprietario. Il proprietario non si deve più preoccupare di selezionare l'inquilino perché l'inquilino è uno solo ed è solo affitti. Oltre a questo si è evoluta la nostra specializzazione in questi anni anche attraverso delle nuove visioni, delle nuove modalità di intendere la specializzazione. Al centro del nostro mondo oggi non mettiamo più l'intermediazione perché sappiamo che nel nostro mercato con soluzioni digitali e non che favoriscono sempre di più l'incontro fra domande e offerta e anche con una richiesta abbondantissima oggi l'intermediazione non è più vincente. Cos'è vincente? Lo dicevamo anche prima, è la possibilità di dare al proprietario una consulenza, una consulenza che è in grado di far cosa? Di ottimizzare la rendita del suo patrimonio immobiliare di ottimizzarla nel lungo periodo, di dare continuità a questa rendita e di blindarla proprio anche dai mancati pagamenti o anche semplicemente dai ritardati pagamenti. E quindi diciamo che questa attività che si sostanzia nella rental property management si affianca anche molto bene con l'attività dell'agente immobiliare tradizionale che si occupa di compravendite e crea delle forti sinergie perché basti pensare all'acquirente investitore immobiliare al quale poter vendere un immobile già garantito da una rendita certa e comunque anche di entrare in contatto con proprietari inquilini che saranno gli uni i venditori e gli altri gli acquirenti poi del domani. E quindi diciamo che specializzazione che si evolve in sicurezza e in rental property manager racchiudono un po' il nostro concetto attuale di essere specialisti. Esatto, guarda, hai fatto una sintesi finale che me l'hai rubata, la stavo pensando, dicevo quindi sì, verticalizzazione ma evoluzione in quell'ambito lì per rimanere sempre comunque al passo, chiaramente. Rimanere sempre al passo e per avere sempre degli strumenti e delle soluzioni innovative in grado di soddisfare i bisogni dei nostri clienti. Bene, bene, grazie. Allora, Dario Castiglia, quali sono i valori che rendono davvero unica un'azienda nella mente dell'affiliato? È curioso che mi fai questa domanda perché noi abbiamo da anni partecipato al Great Place to Work, che è un'azienda che praticamente tocca un po' il sentiment dell'affiliato. È una ricerca che fanno anonima, però è molto utile perché ci dà proprio il, diciamo, ci dà un'idea di quello che gli affiliati richiedono a noi, che vorrebbero la loro wish list, diciamo, ed essendo anonima si sentono anche abbastanza liberi di pronunciarsi liberamente. E devo dire che i valori a cui tengono moltissimo, ovviamente, ma penso che questo sia abbastanza palese perché la rappresentiamo ed è la nostra bandiera, è lo spirito di collaborazione. Quindi collaborazione intesa non soltanto come collaborazione nella trattativa degli immobili, nella negoziazione degli immobili, quindi nello scambio delle informazioni immobiliari, ma proprio lo spirito di collaborazione che noi viviamo da sempre, intesa come condivisione delle esperienze, delle best practices, quindi perché questo è un valore che arricchisce tutti quanti. Questo è uno dei valori sicuramente più forti. L'altro è il valore della meritocrazia. Ovviamente penso che questo sia uno del poter garantire una rete in cui il merito, e soprattutto in un paese come il nostro, dove a volte il merito è tenuto un po' così in alcuni settori, non è il nostro, ma in alcuni settori è un po' dimenticato, questo fa sì che sia uno dei valori molto importanti. L'altro, io direi, è quello proprio di lavorare a mente gli interessi e i bisogni del cliente, cioè lavorare bene, lavorare con una visione di lungo termine. Questo è un valore importante, quello di essere consapevoli di fare un lavoro che possa portare dei risultati al consumatore finale. Penso che questo sia la cosa che ci dovrebbe accomunare tutti quanti, perché questo veramente migliorerebbe la percezione dell'agente immobiliare da parte del consumatore. Quindi non pensare tanto all'immediato, alla propria tasca, diciamo, anche se a volte siamo costretti a pensarci. C'è una base da venditori che rimane sempre lì, soppita. Lo so, però bisogna cercare di lavorare, e su questo ci si può lavorare, perché noi sappiamo che la mentalità si può cambiare, cercando di guardare un po' più a lungo termine per quelli che sono i bisogni dei nostri clienti. Bene, quindi insomma collaborazione, meritocrazia, attenzione al cliente, sono quei valori che se un'azienda porta avanti rimangono, ecco, vivi nella percezione del potenziale affiliato. Questa è la sintesi. Ok, saltiamo Gigio, non ti tengo per ultimo, ma volevo alternare, ok. Maria Laura ha tre soldi. Allora, io so che negli ultimi due anni, non solo io, il mercato sa, che negli ultimi due anni avete lavorato con dedizione e passione a due elementi particolari, che sono il digitale e il modello operativo. Ok, sono elementi questi che favoriscono la distinzione, generano distinzione? Forse va acceso? No. È acceso? Adesso. Ce la facciamo, eh? Eccolo. Adesso sì. Allora, metodo di digitalizzazione. Sì, sono due argomenti sui quali abbiamo lavorato tanti. negli ultimi sei anni. Guarda qui in platea perché ci sono un po' di colleghi, quindi la nostra passione la trasmettiamo. Ma esattamente per tutto quello che abbiamo visto questa mattina, no? Parliamo di evoluzione, del ruolo dell'agente immobiliare. Prima Scenari Immobiliari diceva non è possibile non essere un consulente e non è possibile che gli agenti immobiliari in tutto questo mondo... Non abbiano una parte, un ruolo, certo. In tutto questo mondo che ci circonda non intercettino una buona parte di queste transazioni, no? Siamo in un crocevia. La pandemia ha accelerato un po' di cose. Quello che abbiamo sempre osservato è che il cliente vuoi per la globalizzazione, vuoi per l'accesso a tutti i dati. Al contrario del passato, non va naturalmente dall'agente immobiliare. Per una serie di ragioni. Qualcuno anche magari è la responsabilità dell'agente immobiliare. Oggi online trova tutta una serie di informazioni. Quindi per noi parlare di un nuovo paradigma per l'agente immobiliare. Quindi essere pronto a conoscere il mercato. Abbiamo visto le indicazioni di subito, no? Quindi capire chi è il tuo cliente, il tuo target. Noi cominciamo a parlare di posizionamento, pensa le agenzie nel nostro metodo. Cominciamo a parlare di marketing. Quindi di andarsi a posizionare nella mente del cliente vuol dire fare una serie di cose. Tutto questo attraverso la tecnologia. Conoscere il mercato, conoscere gli strumenti. Dotarsi di strumenti tecnologici come CRM, database. Un MLS, l'hai detto tu stamattina, che è proprio una cosa che ci sta molto molto a cuore. Tutto quello che ti permette di analizzare dati, seguire clienti e fargli fare un'esperienza completamente diversa dal solito. Acquisire professionalità nel nostro metodo vuol dire far passare l'agente immobiliare un po' da artigiano. In Italia la media degli agenti immobiliari per agenzie è di due, in Europa sono sei. Quindi a guardare la propria attività come azienda vuol dire andarsi a specializzare, vuol dire andare a creare i manager di domani, perché questa è una bellissima professione, e quindi attirare i nuovi talenti, quindi un po' la difficoltà di far percepire la professione come tale sul mercato per dare un'esperienza diversa al cliente, cliente che sarà il 25enne, 30enne di oggi. Quindi andare a capire i bisogni e avere la capacità di attrarre esattamente le persone che saranno potenzialmente i nuovi clienti di domani. Quindi un metodo, come abbiamo detto oggi, sicuramente aiuta a dare una guida. Sulla scuola stamattina abbiamo visto mi riferisco, so che devo fare tutta una serie di cose ogni giorno, quindi quali sono le cose da realizzare, come avere un'azienda sostenibile nel tempo, quindi come avere un'organizzazione, come specializzarla, verticalmente e orizzontalmente, cioè di ruoli e di competenze. L'immobiliare è grandissimo, ci sono i colleghi di Aria C1 oggi, ci diranno che molte e poche persone si occupano di commerciale, per esempio. Quindi ce n'è veramente per tutti. Quindi un'organizzazione che abbia delle alternative che naturalmente poi producono il fatturato. Quindi guarda che il fatturato è l'ultimo pilastro del nostro metodo, cioè tutto quello che devi fare prima per generare fatturato, che poi è quello per cui lavorano tutti. Bene, bene. Peraltro oggi pomeriggio avremo un intervento di Maurizio Crepaldi, che parlerà proprio di come attirare nuovi collaboratori anche in agenzia, oltre che clienti, perché è un tema vivo, sempre diciamo al centro, dell'attenzione di quelli che desiderano poi costruire dei team che poi restino fisicamente in azienda, rimangono fedeli e produttivi. E parleremo anche di sostenibilità, poi più tardi, di come il lavoro dell'agente immobiliare può diventare sostenibile. Ci sono alcune iniziative interessanti che magari condividendole potranno ispirare anche voi. Roberto Gigio, allora guardare il mercato internazionale così come state facendo, è un valore percepito dagli affiliati? Buongiorno a tutti intanto, e grazie Gerardo. Domanda interessante. Io penso che... Speriamo. Guarda, io penso che qualsiasi imprenditore voluto oggi non possa fare a meno di pensare che avere un mercato internazionale sia un valore aggiunto. È abbastanza scontata questa risposta, ma è così. Non posso pensare che chi si affaccia a un mercato oggi a livello imprenditoriale e voglia aumentare il suo business, le sue potenzialità di crescita, non possa far parte di un mercato internazionale, non possa fare a meno di guardarlo. Poi la sfida qual è? La sfida è che è difficile farlo, perché tutti... ci sono tanti brand internazionali, e fare cultura poi negli agenti che entrano nei nostri network, capire quanto è importante sapere sfruttare l'opportunità di far parte di un brand internazionale. Quindi uscire dai schemi classici di lavoro dell'agente immobiliare, impegnarsi, studiare, partecipare agli eventi che si fanno. Questo perché? Perché un brand internazionale dà sicuramente l'opportunità di aumentare la propria cultura immobiliare, aumentare la sua esperienza da saper poi trasferire ai clienti, far in modo che un agente possa fare la differenza sul mercato. Poi se volete posso raccontarvi cosa fa Coldwell Banker per questo, ma... Avrete 20 minuti oggi pomeriggio nelle sale breakout per raccontarlo bene. Però ecco, secondo me è un valore imprescindibile oggi. Mi hai risposto, grazie. Poi continua, ho paura di essere voi... Tanto poi torniamo sul tema. Silvia concorda anche Castiglia, quindi guarda, oggi è veramente un connubio, dai, felice. Silvia Spronelli, allora, se sono affitti da sempre, quindi dicevamo ha fatto, ha compiuto una scelta verticale, gli ultimi due anni di investimenti sono stati importanti, investimenti nel digitale. Solo affitti pay è il caso, diciamo, dell'anno, anche con la campagna di crowdfunding fatto con Mamma Crowd, e di fatto sottolineano un po' l'unicità, se vogliamo, della vostra azienda. Ci vuoi raccontare la destinazione, però, di tutto questo fare? Certo, tanto destinazione è una parola che mi piace molto perché è proprio pensando a una destinazione ben precisa che abbiamo progettato sulla fitipay.it. Quando abbiamo presentato la nostra rete il progetto sulla fitipay.it, abbiamo utilizzato la metafora di ritorno al futuro. immaginando di salire sulla macchina del tempo e di impostare come data di destinazione il 2032 per andare a vedere quello che sarà il mercato dell'affitto fra dieci anni. Ecco, noi crediamo che il mercato dell'affitto sia un mercato nel quale molti affitti verranno ancora intermediati da professionisti, ma ce ne saranno anche tanti intermediati dalle piattaforme, quindi affitti digitali e affitti anche digitalmente assistiti. E quindi quello che abbiamo voluto fare è proprio quello di essere fautori anche di questo cambiamento, perché oggi sappiamo e la pandemia insomma ci ha aiutato in questa velocizzare la digitalizzazione, sappiamo anche che la transazione più semplice da digitalizzare nel mercato immobiliare è sicuramente quella dell'affitto, l'abbiamo già visto con gli affitti brevi, ma si può digitalizzare anche quello dell'affitto nel medio e lungo periodo. Ed ecco allora che piuttosto che rimanere a guardare abbiamo pensato di innovare e di guidare questo mercato, perché nel mercato immobiliare si può essere c'è chi innova, c'è chi osteggia l'innovazione e c'è chi segue l'innovazione. Ecco, noi abbiamo la presunzione di avere già innovato una volta il mercato della locazione quando abbiamo scelto di specializzarsi e abbiamo l'ambizione di innovarlo anche oggi con questo progetto soloaffittipay.it Magari può sembrare strano che a lanciare una piattaforma digitale sia una rete immobiliare, ma siamo molto orgogliosi anche che la rete abbia colto le opportunità di questa piattaforma proprio perché quello che abbiamo voluto fare non è pensare alla digitalizzazione fino a se stessa o a un processo di digitalizzazione che escludesse l'agente immobiliare, perché proprio l'unicità e la particolarità del progetto soffittipay.it sta nell'essere l'unica piattaforma che mette al centro anche l'agente immobiliare. Quindi la possibilità per il proprietario e l'inquilino di fare tutto il percorso fino ad arrivare alla conclusione del contratto in maniera digitale, ma anche di essere affiancati da un consulente in carne ed ossa che è uno dei nostri rental property manager sul territorio che gli può ovviamente dare una consulenza su misura. Questo unito anche alla garanzia, alla tutela che la piattaforma dà al proprietario, perché la piattaforma è una piattaforma che ha come scopo quello di tutelare e di andare nella direzione come dicevo prima della sicurezza e quindi di garantire al proprietario il pagamento del canone per tutta la durata del contratto. Ecco, quando abbiamo pensato sulla fitipay.it poi abbiamo anche analizzato i numeri e noi sappiamo che nel nostro mercato ogni anno si concludono 1.700.000 nuovi contratti di locazione e la nostra rete, pur essendo leader nel mercato, ne gestisce solo 30.000. Quindi diciamo che abbiamo una fetta di mercato molto risicata e c'è un 2% e c'è un 98% da andare a conquistare e per conquistarlo velocemente la soluzione è quella del digitale e quindi il digitale che cosa aiuta? Intercettare anche quei proprietari che comunque da un agente immobiliare tradizionale piuttosto che da un rento del property manager non vogliono per partito preso passare però questi proprietari che atterrano sulla piattaforma e mettono a disposizione il loro immobile anche per gli operatori della nostra rete e quindi diciamo che la piattaforma diventa un acquisitore a costo zero per la rete oltre ad avere anche tante altre opportunità di velocizzare i processi come la selezione dell'inquilino piuttosto che il calcolo del canone concordato la certificazione e quindi siamo molto orgogliosi di questa scelta siamo molto orgogliosi del fatto che la rete abbia reagito molto positivamente a questa idea e del fatto anche che molti di loro sono diventati investitori di questo progetto nonché soci attraverso l'operazione di crowdfunding che si è conclusa qualche mese fa quindi insomma un generatore di vita a costo zero virgola perché comunque gli investimenti ci sono stati da parte vostra certo su Mamacraud quanto avete raccolto su Mamacraud? su Mamacraud abbiamo raccolto 627 mila euro ecco che nel settore dei servizi immobiliari davvero comunque molto interessante siamo molto soddisfatti e questo ci servirà per investirli in comunicazione per lanciare questo progetto che partirà a breve proprio sulla città di Roma ottimo grazie grazie Silvia Dario allora su quali aspetti state puntando come Remax per garantirti riconoscibilità che non basta mai che non basta mai e qual è la vostra promessa al mercato dei potenziali affiliati? beh diciamo che va da sé che bisogna tenersi al passo con i tempi con la digitalizzazione ora il periodo pandemico ha forse portato a pensare a una totale smaterializzazione del nostro settore e forse la smaterializzazione spinta e tornata sulla terra perché ci rendiamo conto che tornando a una normalità e questa è parte della nostra normalità essere qua insieme fa tutto un mondo di differenza sia in questo che può essere un incontro come la formazione e tante altre cose condivido quello che ha detto la Silvia sulla centralità della gente della persona quindi da sempre dico che la tecnologia andrà a sostituire non andrà a sostituire la gente immobiliare ma andrà a sostituire quelli che non utilizzano le tecnologie di fatto noi siamo proprio e la digitalizzazione deve essere fine a rendere l'esperienza d'acquisto e di vendita sempre più semplice più rapida e quindi più efficiente perché questa è la sfida di tutti noi rendere la transazione immobiliare meno stressante più rapida e anche più sicura perché ovviamente grazie alla tecnologia la riusciamo a rendere anche più sicura noi abbiamo appena lanciato per esempio degli strumenti che aiutano a digitalizzare parte della transazione il nostro MaxDeal che praticamente permette agli utenti di offrire un prezzo su una piattaforma digitale quindi seguire l'evoluzione di questa sorta di asta non è un'asta attenzione che permette però di velocizzare il processo di vendita per l'agente immobiliare quindi lo rende più efficiente lo rende anche più trasparente perché da sempre noi ci siamo vattuti per una trasparenza nel mercato immobiliare e questo è l'approccio nostro per il futuro quello di utilizzare le tecnologie per rendere la customer experience sempre più piacevole quindi muoversi con quello che è la digitalizzazione anche i nostri uffici stanno cambiando pelle in qualche modo perché ovviamente se prima richiedevano forse una presenza massiccia fisica oggi l'ufficio serve ancora serve perché è un punto di incontro serve perché è un momento di condivisione e soprattutto è un punto d'accoglienza importante per quella che può essere la clientela però è ovvio che la configurazione dell'ufficio moderno è già cambiata abbiamo già iniziato questo processo e quindi il modo in cui interagiamo con i clienti acquirenti e venditori sta cambiando infine andare sempre più verso quello che è sicuramente il nostro ruolo condivido quello che ha detto prima la consulenza immobiliare intesa come advisor del cliente su quello che può essere le migliori soluzioni per le sue esigenze e le esigenze della sua famiglia quindi non tanto dal punto di vista anche dell'investimento ma soprattutto le esigenze della famiglia guardando a quelli che sono i cambiamenti anche in termini di mobilità di lavoro che ovviamente offriranno e cambieranno lo scenario diciamo futuro di quella che è l'urbanizzazione stessa delle nostre città grazie Dario Maria Laura in un mercato che insomma in cui c'è un po' di tutto tante iniziative modelli anche diverse tra di loro che magari possono distrarre anche in parte gli affiliati come si fidelizzano invece come fidelizzate la base degli affiliati due minuti ce li prendiamo in più recuperiamo il mio credito di stamattina ecco su questa tavola infatti c'era un numero rosso vai tranquilla vai vai allora come si fidelizza la giornata che hai organizzato tu come stai dicendo oggi ci sono tante valide alternative per gli affiliati si fidelizzano la fidelizzazione è qualcosa che va al di là si parla di emozioni prima Dario è riportato al great place to work quindi si parla di entrare in sintonia in condividere valori percorsi strategie quando parliamo di franchisor un franchisor deve ricordarsi di essere un franchisor per i propri affiliati e quindi essere colui che aiuta analizza il mercato dalla direzione e credo anche che debba essere abile nel trovare soluzioni concrete che poi si traducano giorno per giorno nell'attività di un professionista e di un imprenditore che vuole cercare di avere un business stabile nel tempo quindi abbiamo parlato tutti di tecnologie di evoluzione però in particolare non dimenticare mai che la promessa del brand quindi ciò che un brand promette al cliente si realizza attraverso tutti i punti di connessione con i clienti che sono esclusivamente gli agenti immobiliari quindi lavorando sull'evoluzione degli agenti immobiliari portandoli a dialogare con un cliente e metterlo diciamo così al centro che poi è un concetto molto molto grande e ampio si realizza diciamo così una unione di intenti che ti porta poi a condividere un percorso quindi nella realtà noi ci prefiggiamo di condividere un percorso professionale non dimentichiamo quindi che cerchiamo di rendere migliore l'esperienza di acquisto del cliente ma dall'altra parte ci concentriamo anche sull'esperienza d'uso degli affiliati rispetto al nostro modello affiliativo questo è il concetto ok grazie grazie Roberto allora io so che tu sei veramente selettivo nella scelta degli affiliati dei punti vendita ti piace andare avanti un passo alla volta senza frenesia e quindi insomma mi hai raccontato anche un po' di aneddoti divertenti ecco ti deve piacere l'ufficio ti devono piacere le persone perché altrimenti è inutile prendersi dei grattacapi e soprattutto dovendo lavorare in un mercato del lusso secondo te questo mercato che vantaggi può portare alla gente ed è davvero percepito dall'agente immobiliare? allora il mercato del lusso come si è parlato anche prima ha una caratteristica normalmente non subisce crisi lo stiamo vedendo anche in questi anni che tutti i settori del lusso stanno performando molto bene l'altra sera hanno fatto vedere al telegiornale un servizio la Ferrari purosangue hanno sospeso le prenotazioni addirittura vai nel campo dell'orologeria i brand del lusso continuano a performare più dei brand un po' più basici ma questo in tutti i settori gli hotel di lusso continuano ad avere l'overbooking e anche nel settore dell'immobiliare noi abbiamo visto che il lusso sta continuando a dare delle ottime performance perché fortunatamente chi ha i soldi continua a spendere e comunque è visto un immobile di lusso anche un investimento una protezione dei loro risparmi per un agente immobiliare non è semplice torniamo al discorso che ho detto prima tutti pensano che sia sufficiente scrivere l'Axary ok sono diventato l'agente immobiliare che tratto quel mondo non è assolutamente così è veramente un approccio diverso che bisogna avere per affrontare quel tipo di cliente è un cliente esigente è un cliente che si aspetta di vivere un'esperienza di acquisto veramente diversa rispetto probabilmente ad altri ed è qui che noi cerchiamo di dare un grande valore ai nostri agenti facendo dei percorsi dedicati a farli specializzare in quel settore torniamo al discorso che se ne è parlato anche prima oggi secondo me è sempre più importante riuscire a prendersi una nicchia di mercato e diventare dei specialisti in quel settore mi posso riallacciare che è fondamentale per trattare l'uso avere anche un mercato internazionale senza un mercato internazionale è un po' più difficile ha detto prima l'amministratore delegato di Villa Dest che parecchi degli americani in questo caso in Lombardia comunque parecchia gente che è alto spendente viene anche dal mercato internazionale e questa è una grande opportunità che chi tratta quel tipo di immobile non può perdere poi ci sono anche fortunatamente tanti italiani che hanno acquistato immobili importanti e quindi torniamo alla domanda è un valore veramente oggi imprescindibile per un agente immobiliare voluto che voglia fare un salto di qualità affacciarsi a quel mercato con tutte le difficoltà perché non è facile anche qui serve amore passione dedizione studiare confrontarsi con i colleghi capire quali sono le dinamiche è un discorso un po' più complesso ma dà grande soddisfazione a quelli che sono riusciti a prendersi quel posizionamento noi come brand abbiamo la fortuna di avere una storia di successo di oltre 100 anni in quel settore e ho visto che è un grande valore aggiunto potersi presentare con storie di successo una credibilità che ci vuole tempo e anni di reputazione per potersi posizionare in quel settore bene avete anche un bel desk insieme agli altri dove potete raccontare nella zona sponsor tutta l'esperienza e la tradizione delle aziende bene e la tradizione è un'esperienza Grazie a tutti